SOS si cita il Po come in piena estate, sono bastati pochi giorni di primavera per ridurre del 45% la portata del fiume e l'alta pressione ci accompagnerà fino a Pasqua. L'inviata Elena Fusai. Il Po è in secca come ad agosto, dall'alto le immagini sono impressionanti, il grande fiume sembra un corso d'acqua profugato. Sugli argini la vegetazione è completamente secca e laggiù la scala idrometrica, il Po corre sotto al livello rosso, cosa significa? Significa che in questo momento è a meno 2,90 sullo zero idrometrico, normalmente il livello dell'acqua copre i pali, siamo in una situazione di magra, il motivo è il cambiamento climatico, le alte temperature. Nei campi coltivati lungo il Po è allarme siccità, i trattori sollevano la terra arida, senza acqua le aziende agricole sono ferme. Il Po è in secca, non avendo acqua nei canali non si può seminare. Gianluigi produce mais e riso nel Pavese, quest'anno non è ancora riuscito a seminare, attende le piogge e spera che si alzi la portata del Po in rosso. Il terreno è molto asciutto e ci sono molte zolle molto grosse, secche e manca l'acqua. Quindi non si può fare? In questo momento non si può fare, bisogna aspettare una pioggia. L'ondata di caldo anomalo si fa sentire ovunque, in città anche al nord si è già in maniche corte. Le temperature resteranno sopra la media di quasi 10 gradi fino a venerdì, sembrerà estate.